Dal 4 dicembre entrerà in vigore il nuovo DPCM che sarà ufficializzato giovedì prossimo. Tante le misure allo studio per contemperare le esigenze delle festività natalizie con la preoccupazione di evitare una nuova ondata e intanto esplode il caso Puglia. Il 4 dicembre entrerà in vigore il nuovo DPCM che il Governo sta elaborando con le nuove misure che riguarderanno anche le festività natalizie. Secondo le ultime ipotesi dovrebbero essere vietati tutti gli spostamenti tra regioni anche in fascia gialla a partire dal 19-20 dicembre fino al 6 gennaio ma dovrebbe essere consentito il rientro alla residenza o al domicilio. Coprifuoco sempre alle 22 e di vieto di uscire prima delle 5 a meno che sussistano motivi di lavoro, salute o necessità. Il ministro della Salute Speranza ha invitato a rispettare il coprifuoco anche per la messa di Natale. Dunque non uno stop alle messe ma basta che vengano celebrate in orario compatibile con l'obbligo di rientro a casa alle 22. E la CEI stamane in apertura del Consiglio Permanente per voce del suo pro-presidente Mario Meini, vescovo di Fiesole, ha garantito che le messe saranno celebrate nel rispetto delle norme anti-Covid. In questi mesi, ha spiegato Monsignor Meini, è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti. Le altre prescrizioni. I sindaci potranno continuare a chiudere, se necessario, strade e piazze dove tra l'altro non saranno in programma i consueti eventi di fine anno. Ancora ferme le attività culturali e le palestre. Nodo scuola, il governo è orientato a riaprire le scuole chiuse il 7 gennaio, a festività concluse, accogliendo così le istanze dei presidenti di regione. Per quel che riguarda la Puglia, l'impressione è che la prossima ordinanza non sarà molto diversa da quella attualmente vigente, secondo quanto dichiara la CISL Scuola dopo l'incontro con regione e ufficio scolastico regionale. Il sindacato plaude all'impegno assunto dal presidente Emiliano di creare nuclei di sanità scolastica per superare il gap comunicativo registrato tra scuole e uffici di prevenzione. Intanto il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha firmato una ordinanza che dispone da oggi, fino al 15 dicembre, la sospensione delle attività didattiche in presenza e dei servizi educativi per l'infanzia delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. La chiusura di sezioni primavera, di nido comunali e privati, ludoteche, centri ludici, servizi educativi per il tempo libero, centri sociali per anziani presenti sul territorio comunale e questo a causa dell'elevato numero di contagi. Un invito netto alla prudenza e a non ripetere gli errori di quest'estate giunge dal presidente della Federazione dei Medici, Filippo Anelli. Il Natale si avvicina, aumenta il desiderio legittimo e sacrosanto di ricongiungimento con i familiari lontani di festeggiare insieme agli amici. Facciamolo, ma con misura e prudenza. A Natale le misure restrittive messe in atto dal Governo avranno sicuramente raffreddato la curva dei contagi, ma questo non significa liberi tutti. Sul fronte vaccini il presidente Emiliano ha incontrato ieri rappresentanti della società Pfizer per fare il punto sulle previsioni di tempi e modalità per la somministrazione del vaccino contro il Covid, una volta esaurita la fase delle autorizzazioni a livello europeo e mondiale. Per la Puglia saranno individuati centri di distribuzione che assicurino la catena del freddo, che dovranno essere pronti per la seconda settimana di gennaio in modo da coprire la parte di popolazione che sarà decisa secondo un protocollo nazionale che sarà individuato in Parlamento.